Idee e progetti per rilanciare il brand Marche. Nasce per mano dell'Unicredit Banca un nuovo progetto a disposizione di chi vuole rilanciare o intraprendere nuove iniziative a livello turistico nella nostra regione e nella provincia di Pesaro. Se ne parla da anni del turismo come l'oro nero del nostro paese, la grande ricchezza da valorizzare per sostenere e rilanciare l'economia. Di questo si è parlato a Pesaro alla presenza di amministratori e operatori turistici nella conferenza di presentazione del nuovo prodotto dell'istituto di credito Unicredit for Tourism. Unicredit che è una banca internazionale quindi sa bene il valore dei flussi di denaro, di merci ma anche di persone e di uomini che vengono a vedere, a assaggiare le nostre terre, ha fatto un investimento molto importante in questo senso. Quindi colloca nella regione del centro nord una somma molto rilevante, parecchi milioni di euro che andiamo a collocare nei prossimi anni con un'azione molto mirata, un budget molto specifico che arriva ad avere circa 40 milioni di euro per questa regione. Dobbiamo cercare di valorizzare e portare presenze turistiche nella nostra regione in modo da favorire l'economia e la ripresa del manifatturiere oltre che del turismo. Quindi noi puntiamo molto sul turismo delle marche e cerchiamo di dargli una mano.